Scoppia una lite, l'ennesima, tra due donne vicine di casa e una delle due minaccia di gettare candeggina sul balcone dell'altra. I poliziotti del commissariato di Canicattì, accorsi prontamente per riportare la calma, sono stati accolti con insulti e offese da una 34enne canicattinese. La stessa poi ha afferrato un vaso di fiori e ha minacciato gli uomini in divisa di tirarglielo addosso. La donna è stata dunque portata in commissariato e denunciata in stato di libertà alla procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi del reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.